Buongiorno interni, mi chiamo Nicola Belpietro, sono area manager per la società Sabaf, produttore di componenti per elettrodomestici. Parliamo di responsabilità sociale collegata al design, per noi questo significa progettare e pensare sin dall'inizio a dei prodotti che devono avere una valenza dal punto di vista dei performance, quindi prestazionale, ma chiaramente tenere in considerazione tanto il risparmio energetico quanto l'intero processo produttivo, quindi nella progettazione si parte ad analizzare chiaramente il prodotto ma si tengono in considerazione tutte le componenti che hanno comunque un impatto sul sociale, il sociale non è soltanto chi è fuori Sabaf ma anche chi è all'interno di Sabaf, quindi anche sui dipendenti e tutti quelli che normalmente vengono definiti come stakeholder, quindi che hanno portatori di interessi nei confronti della società.